Non produce rumore, non inquina ed è facile da usare. È la fresatrice manuale, un attrezzo agricolo che sfruttando l'energia muscolare consente di lavorare il terreno eliminando la cosiddetta postura curva. Il prototipo di questa macchina agricola Noil è stato realizzato da Giovanni Pellegrino, un pensionato salentino con alle spalle un passato da cooperante nelle zone del pianeta in cui si pratica ancora oggi l'agricoltura di sussistenza. L'obiettivo è quello di promuovere una nuova cultura di lavorazione della terra attraverso l'utilizzo di tecnologie a basso costo ma rispettose dell'ambiente. Si compone di due pettini, diciamo così, di due file di denti che si incrociano come fossero delle forbici e che tagliano la terra trattenendo in superficie eventuali erbe. Poi c'è una leva particolare che si impugna bene con un manubrio. La molla serve a ridurre alcuni dettagli che darebbero fastidio in mezzo ai piedi. La fresatrice manuale non richiede alcuna pratica agricola precedente ed è adatta a persone di ogni età. Lo sforzo fisico è contenuto e il ritmo di lavoro rappresenta un ottimo metodo per tenersi in forma. La persona sta dritta e si muove con un passo quasi danzante, con un passo da ginnasta, per cui fa bene e assolutamente non fa male.